si stiamo andando con la map ma perché non sei la vani? eh ma sono pagati per quello stasera vuoi fare una foto con lui? no è brutto no è brutto è bene dove andate? ancora lagrani? stiamo girando in tonne raga abbiamo perso Nicola abbiamo perso le mamme non lo facciamo Nicola non lo siete mangiato? bravi Dio buono ma io prima ho visto passare un lì abbiamo Nicola noi siamo lì noi abbiamo Nicola non ce ne sono usciti